SIGEP 2024 continua, è un gran bel ritorno il nostro allo stand di Infusi Personalizzati SRL, la società italiana che si occupa di private label ma non solo per gli Infusi, oggi molto ben rappresentata da Pierpaolo Sichi Nolfi, il co-fondatore e direttore generale dell'azienda. Ciao Pierpaolo, bentornato. Ciao Fabio, grazie a te per essere tornato. Veniamo a ciò che presentate in questa 45esima edizione di SIGEP. Beh, noi continuiamo a presentare il nostro servizio di private label nel mondo tetti sane e infusi, quindi realizziamo linee di tetti sane e infusi per i nostri clienti con il loro marchio e verticalizzandoli nel loro mercato di riferimento. Utilizziamo dei filtri compostabili e biodegradabili, quindi siamo molto attenti alla sostenibilità del filtro, della materia prima, che sia sempre di alta qualità, e anche del packaging finale che noi utilizziamo per i nostri clienti. Qui in effetti ho proprio con me dei prototipi di carta compostabile con cui noi riusciamo a confezionare i nostri infusi e delle soluzioni molto particolari, sempre in carta e senza aggiunta di collanti, che stiamo proponendo al mercato, devo dire con un riscontro inatteso, che supera le nostre aspettative. Quello che mi ha colpito tra tutte le cose che sono presenti all'interno del vostro stand è l'etichetta magnetica staccabile e riposizionabile su altri contenitori, estremamente sostenibile come idea e come funzione. Sì, in questo caso tu hai visto alcuni spunti che noi offriamo ai nostri clienti, questo è uno spunto intelligente perché ci permette di personalizzare delle scatole in latta con delle etichette magnetiche rimovibili, per cui è possibile riutilizzare le stesse scatole cambiando il prodotto all'interno e quindi con una grande flessibilità per i nostri clienti, anche qualora loro avessero una dimensione più piccola e quindi volessero ottimizzare al meglio le loro risorse, chiaramente. Altra idea estremamente interessante è quella dei barattoli, diciamo da esposizione per i banchi, dei negozi o comunque delle attività che vogliono mettere a disposizione del pubblico un prodotto ben visibile ma anche ben chiuso, ermeticamente chiuso per non far disperdere gli aromi. E la fragranza del prodotto, la fragranza del prodotto, certamente. Il barattolo è una soluzione che abbiamo portato a questa fiera perché anche molte attività al dettaglio utilizzano e prediligono appunto la vendita del prodotto facendola apprezzare ai clienti esteticamente prima che fargli sentire la fragranza del prodotto e poi potendola vendere così anche in maniera sfusa, anche pochi filtri, anche senza confezionamento, direttamente in piccole bustine e quindi in questo caso ci verticalizziamo su un mercato che è appunto quello del piccolo negoziante. Noi parliamo sempre con i distributori ovviamente che fanno questo lavoro di distribuzione sul loro mercato di riferimento. Per Paolo forniamo un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile contattarvi, chiedervi informazioni gratuitamente senza alcun impegno e magari iniziare una relazione commerciale. Con estremo piacere è possibile scrivere a commercialechiocciolainfusipersonalizzati.com per parlare con i nostri uffici commerciali oppure scrivere a direzione chiocciolainfusipersonalizzati.com per mettersi in contatto direttamente con me e discutere eventualmente di soluzioni private label nel mondo tè, tisane e infusi personalizzati. Grazie per la pillola e le informazioni dettagliate, ci rivediamo prestissimo attraverso le nostre camere. Grazie a te Fabio per la tua estrema gentilezza e per la tua professionalità. Grazie a te Fabio per la tua estrema gentilezza e per la tua estrema gentilezza e per la tua estrema gentilezza.